Election Day a Schio il 3 ottobre, dopo i rinvii dovuti all'emergenza sanitaria, domenica la città è chiamata alle urne per il rinnovo dei consigli di quartiere. Sei rioni interessati dal voto, Centro Alessandro Rossi, Stadio, Poleo, Aste, San Martino, Cappuccini, Santissima Trinità, Piane, Ressecco, Magrè, Montemagrè, Liviera, Catrenta, Giavenale e Santa Croce Maglio, a poter esprimere la propria preferenza 28 mila residenti dai 18 anni in su. Resta escluso da questa tornata elettorale il quartiere del Tretto che non ha raggiunto il numero minimo di candidati, 7 per la formazione della lista. A questa tornata elettorale ci sono presentati 68 candidati, dice l'assessore Alessandro Maccolan e il consigliere delegato ai quartieri Sergio Pavanna. Ringraziamo di cuore tutti coloro che si sono resi disponibili. I consigli di quartiere sono degli strumenti nati per favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale e amministrativa. Una partecipazione che si manifesta non solo grazie a chi si mette in gioco in prima persona, ma anche tramite il voto dei residenti, che permettono così a questi organismi di trovare l'adeguata legittimazione utile a rappresentare le istanze della loro comunità presso l'amministrazione. Invitiamo la cittadinanza ad andare ai seggi il 3 ottobre per esprimere la propria preferenza.